Ciao a tutti raga, B1W2, oggi non è il giorno e oggi facciamo solo una prova con la nuova macchina fotografica Monova, in cui in precedenza ho fatto il video dell'unboxing del Magic Mouse questa fotocamera si chiama PL55 le foto sono buone adesso anche il video andiamo a fare lo zoom ecco questo è tutto il massimo lo fa veramente molto bene sembra un HD ma non lo so ciao a tutti ragazzi vi vedete come dare al prossimo video ciao a tutti